Buongiorno a tutti, sono qui in piazza Garibaldi con Ivetta, Simone, Elisa e Giovanni. Stamattina vorremmo fare insieme a voi un approfondimento sui punti programmatici del nostro programma elettorale perché noi abbiamo un programma e ci teniamo davvero tanto a raccontarlo. Prima di passare ai punti più importanti vi voglio ricordare che il 24 maggio dalle 19.30 in poi saremo qui in piazza Garibaldi per la scena di chiusura della campagna elettorale. Questo è un luogo molto bello, è stato scelto per questa chiusura di campagna elettorale, ci sarà una grande cena bianco-rossa grazie al contributo fattivo dei commercianti che prepareranno la cena per noi e per voi. Oggi c'è il sole, speriamo che ci sia anche venerdì, se dovesse essere brutto tempo la cena e la chiusura della campagna elettorale verrà fatta alla mensa in via Sant'Ommaso. Quindi su Facebook trovate tutte le informazioni e le info per questa cena, prenotatevi. Ora passiamo ai punti del programma elettorale, vi garantisco che non ci starò più di 20 minuti, quindi se avete un po' di pazienza seguiteci perché sono punti davvero importanti e qualificanti per il futuro della nostra Santa Croce. Io vorrei partire da un punto, un punto che forse è quello che si vedrà meno, ma sarà un punto davvero qualificante per come noi immagineremo Santa Croce nel futuro. Nei prossimi cinque anni noi faremo il nuovo piano strutturale e il nuovo piano operativo. Su questo abbiamo già ricevuto un finanziamento dalla regione toscana per 90.000 euro, sarà un lavoro fatto in sinergia attraverso la costituzione di piano con il comune di Castelfranco e sarà lo strumento vero che ridisegnerà Santa Croce. Non solo la ridisegnerà, ma attraverso questi due strumenti noi potremmo trovare finalmente la soluzione per esempio per tutte le aree conciarie dismesse, che sono una delle criticità più importanti del nostro paese, ma possiamo pensare anche a tutto il tema infrastrutturale. Su questo mi piace ricordare che attraverso il piano strutturale noi potremmo anche pensare a un collegamento dall'autostrada fino a Santa Croce per eliminare il problema e la criticità del passaggio dei mezzi pesanti sulle cerbaie. Quindi questi due strumenti saranno davvero determinanti per il ridisegno della città. Un altro punto su cui vorremmo iniziare a lavorare da subito è l'efficientamento energetico della pubblica illuminazione. Questo è un punto davvero qualificante, siamo pronti per metterlo in campo, abbiamo già la mappatura per esempio di tutti i punti luce che sono 3.500 a Santa Croce quindi il piano di efficientamento energetico sarà una soluzione importante, prima di tutto per risparmiare, ma sicuramente anche per... ...ce lo consente ma vorremmo fare un passo di qualità importante introducendo la tariffazione puntuale sulla Tari che è la tassa sui nostri rifiuti. Quindi vorremmo arrivare ad un modello di raccolta dei rifiuti che appunto facesse pagare ognuno per i rifiuti che appunto produce. Quindi questo è un altro punto assolutamente qualificante, ci abbiamo già iniziato a lavorare negli ultimi mesi di legislatura e anche su questo siamo davvero pronti a partire. Poi mi piacerebbe parlare subito del centro storico. Noi siamo qua, abbiamo scelto di concentrare gran parte della campagna elettorale qua perché ancora riteniamo che questo sia davvero il luogo simbolo dei santacrocesi. In questi anni abbiamo attivato delle politiche, abbiamo investito risorse su quello che è pubblico nel centro storico. Penso al teatro, penso alla biblioteca, penso alla grande operazione di Piazza Matteotti ma credo che ci sia bisogno di fare ancora di più. Per questo noi abbiamo un'idea, stiamo studiando e vorremmo attivare un nuovo regolamento sulla idoneità abitativa. Guardate, questo diventerà un punto davvero qualificante per il centro storico e anche per la messa in sicurezza degli edifici nel centro storico perché noi vorremmo legare l'idea alloggiativa non soltanto al numero di evani presenti in rispetto alle famiglie che andranno a abitarci lo vorremmo legare al rispetto dei requisiti minimi igienico-sanitari perché noi vogliamo un centro storico che abbia anche questi bei palazzi che ci circondano in sicurezza. Quindi questo sarà un punto che rivoluzionerà le politiche del centro storico e per noi diventerà importante. Sempre sul centro storico vorremmo pensare a un nuovo arredo urbano per Piazza Garibaldi in sinergia con i commercianti che ci stanno già lavorando per i larghi e per Corso Mazzini. Rimanendo in tema di lavori pubblici ci sono diverse opere che noi vorremmo fare. Prima tra tutti una nuova palestra. La nuova palestra verrà individuata attraverso il piano strutturale, la sua localizzazione ma Santa Croce necessita davvero di una nuova palestra. Su questo ci può dire qualcosa Simone. Buongiorno a tutti. Sono Simone Coltelli. Votare Giulia perché? Perché ha sostenuto, sostiene e sosterrà tutte le attività sportive e le associazioni che fanno parte del Comune di Santa Croce che sono innumerevoli e appunto sfocerà sulla realizzazione di questa nuova palestra perché i giovani che intraprendono le attività sportive sono sempre di più e le nostre palestre sono insufficienti. Grazie Simone. Rimanendo in tema di associazioni sportive che davvero come diceva sono davvero tante di cui sono anche molto orgogliosa per il lavoro non soltanto sul benessere dei nostri ragazzi ma anche sulla parte della socialità. Un altro grande sogno che in questi cinque anni abbiamo in qualche modo cercato di portare avanti è la realizzazione del parco acquatico. Anche qui in sinergia con il gestore che oggi è a Quatempra e con il Comune di Fucecchio vorremmo realizzare davvero questo grande e nuovo luogo di socializzazione sportiva all'interno della nostra piscina intercomunale. Questo sarebbe davvero un grandissimo risultato per Santa Croce che chiuderebbe anche un'attività importante come quella che produce la nostra piscina intercomunale che vi ricordo fa 9.000 accessi l'anno quindi sarebbe davvero una parte, una realizzazione davvero qualificante. Rimanendo in tema di nuove opere pubbliche abbiamo un altro grande sogno perché credo che un sindaco debba anche un po' sognare e soprattutto immaginarsi il suo paese fra molti anni. L'altro grande sogno e l'opera pubblica di cui necessita Santa Croce è un grande parco giochi urbano. Prima vorremmo finire di riqualificare i giardini di quartiere così come l'abbiamo definiti nel programma elettorale. In questi cinque anni ne abbiamo riqualificati otto, vi ricordo la grande scommessa vinta sul parco Robinson ma finiti di riqualificare i giardini di quartiere, penso a quello in via Lebozzi, in via Sentembrini, in via Sciccangiolieri, in via dell'Arma dei Caduti e dei Carabinieri, noi pensiamo che Santa Croce abbia bisogno di un parco giochi urbano dove reperire anche spazi di gioco libero. Su questo ci dice qualcosa Ivetta. Buongiorno a tutti, sono Ivetta Parentini, credo che come Giulia uno degli elementi qualificanti di questo programma sia proprio la realizzazione di un grande parco urbano dedicato ai nostri bambini, ai nostri ragazzi con attrezzature anche diversificate e innovative perché penso che diventi un importante centro di socializzazione e di coesione per la nostra bellissima comunità. Grazie Ivetta, vi abbiamo raccontato quali sono per noi le opere pubbliche di cui necessita Santa Croce ma un punto assolutamente importante è quello di continuare quella che noi cinque anni fa abbiamo chiamato la manutenzione straordinaria del nostro territorio. Abbiamo investito 2 milioni di euro sull'edilizia scolastica, 2 milioni di euro su piazze e strade abbiamo iniziato la riqualificazione dei marciapiedi, dei parchi urbani ma questo diventerà e sarà ancora, continuerà ad essere un punto qualificante perché i cittadini devono essere messi in condizione di vivere in un paese fruibile, bello e accogliente. Su questo ci dice qualcosa Elisa. Buongiorno a tutti, io sono Elisa Bertelli sicuramente il punto del programma che mi sta più a cuore e che credo debba stare a cuore anche di tutti i cittadini perché come diceva il sindaco hanno diritto di vivere in un paese ben curato, sicuro e tenuto a posto è il punto che ha come titolo avere cura dei luoghi e degli spazi. Questo significa che proseguiremo quel lavoro che abbiamo iniziato sulle strade, sui marciapiedi, sulle piazze, sugli edifici pubblici, occupandoci in questi secondi cinque anni anche di quelle strade che sono un pochino più marginali rispetto a quelle principali sulle quali siamo intervenuti in questi cinque anni per cui c'è bisogno di continuare ad andare avanti in questo grande piano di manutenzioni ed è il motivo per cui dobbiamo votare Giulia De Idda. Continuiamo la parte dei lavori pubblici e della riqualificazione prima di passare a tutta la parte che riguarda il mondo dei servizi che a noi sta molto a cuore quanto gli investimenti pubblici. Su questo vado immediatamente a Staffoli facendo via di Poggiadorno e via delle Pinete per arrivare in Piazza Panattoni. Piazza Panattoni è la piazza centrale di Staffoli, è una piazza che necessita di una riqualificazione vera. In questi anni l'abbiamo messa in sicurezza, abbiamo fatto un lavoro forse un po' troppo marginale. Ora ci sono le risorse per pensare a un progetto di riqualificazione che parta dalla risistemazione della pavimentazione, magari pensando di togliere i famosi sanpietrini, ma che pensi anche per esempio a una nuova illuminazione. Rimanendo su Staffoli, altri due punti che ci stanno particolarmente al cuore. Uno sicuramente è l'ex cinema. Ecco, su questo voglio essere chiara. Gli staffolesi hanno il diritto di avere un luogo in cui ritrovarsi, in cui ritrovarsi come singoli cittadini, in cui ritrovarsi come associazioni, in cui trasferire tanti servizi comunali che a Santa Croce ci sono e che a Staffoli devono essere ancora sviluppati. Penso per esempio alla biblioteca per bambini, che sarebbe un'opportunità davvero importante per i nostri ragazzi a Staffoli. Quindi la riqualificazione dell'ex cinema sarà un punto su cui inizieremo a lavorare da subito, perché credo che ci sia bisogno a Staffoli di un punto, e l'ex cinema è un punto centrale, di un centro polifunzionale che sia davvero aggregante per tutti. Rimanendo su Staffoli, voglio lanciare anche l'idea di un parco avventura al Parco Robinson. Voi lo sapete, in questi cinque anni abbiamo vinto la scommessa di far rivivere il Parco Robinson. Noi ci siamo stati il 25 aprile dopo aver celebrato la liberazione ed è stato davvero molto bello vedere famiglie intere che mangiavano, i bambini si divertivano. Il nostro Parco Robinson è tornato davvero ai tempi di quando io ero piccola. Ma noi non ci accontentiamo perché ci piace ancora sognare e immaginare cose nuove. Sul Parco Robinson pensiamo a un parco avventura. Su questo abbiamo già avuto dei contatti in questi cinque anni da aziende specializzate che fanno questo tipo di attività. Quindi sarebbe molto bello se dietro la parte che abbiamo riqualificato nascesse questo parco a servizio sempre dei nostri bambini. Su Staffoli poi grande è stata l'attenzione anche su altri temi. Penso al tema del medico di famiglia su cui abbiamo collaborato insieme alla ASL e quindi ponendo l'attenzione a una materia assolutamente importante e indispensabile per la vita dei cittadini. Nel bilancio 2019 ci sono già le risorse per la riqualificazione degli ambulatori su Via delle Pinete ma grande rimarrà l'attenzione per gli staffolesi alla parte dei servizi medici. Visto che parlo di servizi arrivo immediatamente a tutto il mondo dei servizi che l'amministrazione offre già ai cittadini. Sicuramente i servizi culturali. Guardate i servizi culturali sono assolutamente importanti e la lista che mi sostiene e quindi il nostro programma li riconferma assolutamente tutti. Io lo voglio dire a grandi lettere. I servizi culturali sono imprescindibili per la crescita di una comunità e sono un investimento davvero serio sulle giovani generazioni. Mi fa quasi sorridere quando sento dire che il bilancio del Comune sulla cultura è in deficit. Il Comune ha il dovere, a mio avviso, di erogare un servizio pubblico che è un servizio culturale. Noi abbiamo una bellissima stagione di prosa al teatro, abbiamo laboratori ACAB con bambini, facciamo delle bellissime mostre che valorizzano Santa Croce a Villa Pacchiani, la biblioteca con tutte le sue attività, 50.000 accessi l'anno. Ecco, tutto questo mondo con Giulia rimarrà perché è un mondo di servizi davvero imprescindibili. E poi, parlando di servizi imprescindibili, arrivo a tutto il sistema dei servizi educativi su cui evidentemente abbiamo delle idee. Diventerà imprescindibile il mantenimento a gestione diretta della mensa, sia quella a Santa Croce, sia quella di Staffoli, il trasporto pubblico, la direzione diretta dei centri estivi, che per noi è davvero qualificante. Sui centri estivi un punto davvero qualificante è l'ampliamento dell'offerta a settembre, che partirà proprio nel 2019, ma anche l'ampliamento dell'offerta per i ragazzi delle scuole medie e magari anche in inglese. Perché per noi il centro estivo è davvero una parte importante di crescita dei figli e dei bambini fuori dalla scuola. Sempre sui servizi educativi pensiamo alla costituzione di uno 06 all'interno di Maricò. Anche questo è un punto assolutamente qualificante del nostro programma elettorale, perché offriremo posti dell'infanzia e del nido ancora più importanti di quelli che già oggi esistono e oltretutto con i lavori che stanno già partendo su Maricò riusciamo a riportare anche un servizio nel centro storico. Quindi per i servizi educativi pensiamo a un mantenimento del sistema a gestione diretta che è assolutamente imprescindibile e come le due cose che vi ho voluto raccontare i centri estivi e il polo 06 sono a nostro avviso i punti qualificanti. Sui centri estivi, sui servizi educativi scusate, vi voglio dire un altro punto. Noi abbiamo delle scuole importanti, delle scuole numerose. Nel mio programma elettorale abbiamo scritto che noi sosterremo le insegnanti, le professoresse e le maestre nella progettualità. Metteremo a disposizione l'ufficio dei servizi educativi per consentire alle professoresse e alle maestre di fare una progettualità oltre il programma ministeriale che giustamente devono portare avanti. Anche questo è un punto qualificante perché credo, come ho sempre creduto, che sia importante imparare la storia, la geografia, la matematica e l'italiano, ma per i nostri figli sia importante anche fare tutta una serie di attività collaterali che appunto puntano sulla crescita dei nostri ragazzi. Rimanendo in tema dei servizi, affronterò la parte dei servizi sociali, rivolta soprattutto alla popolazione più fragile che sono i nostri anziani. Su questo c'è stato davvero un bel investimento in questi cinque anni, sulla popolazione fragile, sugli anziani. Voi pensate che sono oltre 300 gli anziani in carico all'amministrazione. C'è stato davvero un bellissimo e generoso impegno. Abbiamo ancora la direzione della Casa di Riposo Meacci, che è un fiore all'occhiello di Santa Croce, e quella direzione noi la vorremmo mantenere perché crediamo che un servizio di quel tipo non possa essere assolutamente esternalizzato. Per la Casa di Riposo pensiamo a due azioni importanti. La prima è l'istituzione di un centro diurno, perché far vivere la Casa di Riposo anche con altre persone durante tutto il giorno è davvero importante. E poi pensiamo all'ampliamento dei posti per la non autosufficienza appunto dei nostri cittadini. Questi sono due punti assolutamente qualificanti che vanno davvero incontro alle esigenze di una popolazione che oggi davvero riteniamo forse quella più fragile. Rimanendo in tema di politiche sociali e comunque di politiche di socializzazione il mondo del volontariato è stato un mondo di cui ci siamo davvero presi cura in questi cinque anni istituendo il tavolo delle associazioni. Siamo partiti con nuove associazioni, siamo arrivati a più di 15. È stato un lavoro molto bello che ha diretto l'assessore Zucchi. Su questo fronte noi proponiamo due cose. La prima è una grande festa del volontariato perché le associazioni volontariato hanno bisogno di essere promosse, valorizzate, hanno bisogno di trovare dei nuovi volontari e trovare nuovi volontari per le associazioni volontariato è davvero importante perché poi sono le associazioni che davvero si mettono a servizio tutti i giorni dei cittadini. Quindi anche sulla scia dei giochi santacrocesi che abbiamo fatto sabato scorso credo che anche tutto il mondo del volontariato debba avere un luogo dove essere valorizzati e promossi e poi un'opera che ci sta davvero a cuore è la realizzazione della Casa delle Associazioni. Su questo ci dice qualcosa Giovanni. Buongiorno, sono Giovanni Golfarini. La Casa delle Associazioni è una struttura in cui ospitare varie associazioni del territorio di Santa Croce che spesso non riescono a trovare un loro spazio e questo verrà fatto negli uffici dell'ex anagrafe che sono proprio nel centro storico di Santa Croce in modo da rivalorizzarlo e farlo vivere poi ai cittadini una volta recuperato. Grazie Giovanni. Parlato un po' dei punti in tema dei servizi passo alla questione ambientale e alle tematiche ambientali. Qualcosa abbiamo già detto prima sulle politiche dei rifiuti ma ci tengo a dire altre due cose. La battaglia sul lamianto in questi cinque anni è stata una battaglia davvero importante. Questa amministrazione ha rimosso oltre 16.000 metri quadrati di amianto all'ex officine Gozzini e consentitemelo, grazie all'aiuto dei cittadini e grazie all'aiuto anche delle forze politiche noi abbiamo messo in sicurezza da un punto di vista di salute un intero quartiere e questa è davvero la cosa che mi rende più orgogliosa. Ma non ci siamo fermati anzi questa operazione ci ha sensibilizzato ancora di più quindi i prossimi cinque anni saranno caratterizzati da liberare Santa Croce dall'amianto come attraverso i contributi che daremo anche ai privati a cittadini privati per la rimozione appunto dell'amianto su questo vorremmo fare anche delle campagne di sensibilizzazione per far capire quanto questo materiale può essere dannoso per l'ambiente e per la salute quindi la lotta all'amianto continuerà ad essere una lotta importante anche per i prossimi cinque anni poi sulla tematica ambientale non posso che pensare al nostro settore produttivo alle nostre concerie alla nostra produzione al nostro prodotto davvero di qualità le concerie sono davvero l'eccellenza del nostro territorio sono anche la parte che dà benessere a Santa Croce che dà lavoro ai lavoratori Santa Croce ha un indotto di 6.000 addetti il distretto è formato da oltre 500 aziende quindi sono numeri davvero alti per un comune come quello di Santa Croce sull'Arno che è capofila del distretto appunto del cuoio su questo ovviamente la parola che mi viene in mente è concertazione noi dobbiamo continuare una storia una storia di sinergia e di concertazione con l'associazione Conciatori con i sindacati con l'ASSA con tutte le categorie economiche e sociali che in questi anni hanno davvero grazie alla sinergia fatto l'eccellenza del nostro territorio e allora noi vorremmo stare accanto a questo mondo su due questioni il primo l'attivazione dell'accordo di programma il cosiddetto tubone che sta partendo su cui stanno già lavorando un accordo davvero importante che porterà Santa Croce e gli altri comuni a depurare diciamo così gran parte della Toscana per poi rimettere in circolo in un procedimento virtuoso l'acqua depurata nelle concerie e poi un altro accordo un altro accordo che ci sta a cuore sull'economia circolare sancito dall'associazione Conciatori e dalla regione Toscana che prevede un accordo che prevede 80 milioni di euro appunto sull'economia circolare per chiudere finalmente un cerchio e un processo che è iniziato davvero tanti anni fa quindi massima vicinanza al settore conciario come sempre evidentemente massima sinergia e ancora più lavoro attraverso il tavolo di distretto ci occuperemo ancora del polo tecnologico conciario che è il nostro davvero fiore all'occhiello del comprensorio del cuoio che fa tanta formazione che fa tanta ricerca che fa tanta innovazione e che consente anche ai nostri giovani di trovare lavoro vi do un dato che mi piace sempre dire il 98% dei ragazzi dell'ITC Cattaneo che fanno il corso di chimica e che poi passano da Apoteco nell'alternanza scuola-lavoro trovano immediatamente lavoro ecco io credo che questi siano davvero risultati imprescindibili su cui dobbiamo continuare a lavorare anche per il futuro appunto pensando soprattutto ai nostri giovani e poi pensiamo al grande tema della sicurezza su questo voglio dire vi voglio dire di non farvi affascinare da slogan facili perché il tema della sicurezza è un tema importante è un tema complesso noi crediamo che tutti i cittadini debbano essere in sicurezza la sicurezza crediamo che sia un diritto di tutti su questo ci sono molte azioni continuiamo a pensare che un paese più bello un paese più vivibile sia anche un paese più sicuro e quindi gli investimenti di cui parlava Elisa prima portano in questa direzione crediamo che si debbano attivare delle sinergie ancora più importanti con i cittadini ci piace la sperimentazione che ha fatto Empoli sul controllo di vicinato che segue un po' anche la filosofia dell'impegno sulla sicurezza per esempio sugli anziani che abbiamo portato avanti in questi anni sul grande tema della sicurezza stiamo già lavorando con il prefetto di Pisa e il prefetto di Firenze per un sistema di videosorveglianza di tutte e tre le zone industriali ecco queste sono azioni concrete azioni assolutamente fattibili non sono slogan ma sono azioni che appunto incarnano quello che noi crediamo davvero essere un diritto al pari di tanti altri questo a grandi linee il programma i punti qualificanti del nostro programma ci sono tantissimi altri punti altrettanto importanti li troverete li potete trovare sul sito di Giulia Deida li potete trovare al comitato elettorale che tutti i giorni dalle 6 all'8 è aperto quindi vorrei vorrei chiudere vorrei chiudere dicendo di sostenerci manca una settimana manca poco più di una settimana al 26 maggio noi siamo molto convinti di aver realizzato un programma vero concreto un programma che parte dalle esigenze che in questi 5 anni e durante la fase di ascolto della campagna elettorale sono emerse quando ci si dice Santa Crocesi o quando si dice che sindaci non ci si improvvisa noi guardate non facciamo facile eronia ma pensiamo che chi non si è mai visto in questi 5 anni chi non ha mai vissuto questi 5 anni il paese non possa essere in grado di conoscere le esigenze i bisogni veri di una realtà complessa come Santa Croce ma di una realtà che deve comunque avere la forza di proiettarsi in un futuro e questo non è non è assolutamente banale quindi sostenete Giulia sostenete tutti i candidati che sono con Giulia perché la lista è una lista che celebra l'esperienza ma che punta anche al rinnovamento e a un investimento sul futuro è una lista unita quindi sostenete Giulia sostenete una squadra unita un programma vero ma soprattutto sostenete chi ama davvero Santa Croce sull'Arno grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti